buonasera donato, questo è bello ho detto ma fai vicino a mia sorella ora si sembra la cagliottina guardi che è un panino ha detto vicino a mia sorella ha detto mi ha messo a scendere l'ombrella ha detto che l'ombrella non bene ma penso che mandi vende di mare aspetta che stiamo già in registrazione ma mi devi fare giustamente mi devi mettere pure a me nel quadro con una bella fotografia ti immortalò subito bravo aspetta che mi disposti da quest'altro abbi si spreme il camion no no si non si... ma sta registrando se hai registrazione Dopo un mese di pausa siamo qui in piazza tra i cittadini, volevo dire una cosa a tutti i cittadini che sono stati in vacanza, che hanno riposato, sono stati bene in vacanza, che hanno preso molto sole. Volevo dire che il 31 agosto Renzi ha distrutto la scuola pubblica, il 31 agosto se non è, ha distrutto la scuola pubblica e ha introdotto un emendamento schifoso nel quale parla di gente eccetera. Non tocco l'argomento perché non sono informato, però voglio dire che la mia idea che sui gender non la vedo bene perché manipolare la mente di un bambino da piccolo non sta bene. È il bambino che quando crescerà sceglierà lui cosa essere. È questo che mi fa molta rabbia che i cittadini hanno votato BD alla regione di campagna. Poi volevo dire una cosa, vedete siamo di nuovo qua, non ci sono elezioni, siamo di nuovo in piazza. Il Movimento 5 Stelle sta sempre in piazza e in mezzo ai cittadini. Volevo dire che le prossime elezioni che ci saranno, non so quando, perché non sono informato su questo, sappiate votare la prossima volta perché ci stanno distruggendo. Informatevi sulle proposte di legge che fanno in Parlamento. Un vero abbraccio.